Benvenuti, cari follower. Prima di entrare nei dettagli, se sei felice che l'inverno e la neve siano tornati in Italia, premi il pulsante Mi piace per questo video. Fateci sapere quante persone aspettano l'inizio delle nevicate in Italia. Secondo l'ultimo aggiornamento del Centro Meteo Europeo, la massa d'aria fredda polare dovrebbe arrivare in Italia a partire da sabato 25 novembre 2023 e proseguirà fino alla fine di questo mese, novembre 2023, con grandi quantità di neve, soprattutto nell'Italia centrale e meridionale, e in alcune zone del nord, con forti ondate di freddo, gelate e forti venti, clima invernale per eccellenza. Le aspettative quindi sono state in larga parte confermate e l'inverno si avvicina prepotentemente in Italia, a partire dal 25 novembre. Vi forniremo maggiori dettagli sulle zone specificatamente interessate dalla neve e sulle quantità di pioggia e neve previste e quando si avvicina il periodo.